Amici che state guardando l'AI1, da quando darò il via, sul vostro televisore, non vedete più l'AI1, ma comparirà canale 5 per circa 5 secondi, ma se è svenuto, ora ve lo faccio vedere, vai su canale 5, vai su canale 5, ecco lì, c'è il grande protetto, sì, sì, ecco lì, che servo, che sta zitta, tu devi sta zitta. Capito da subito, perché tu non potevi essere un avversario. L'ha fatto, signori, l'ha fatto, l'ha fatto. Rosario, andiamo a fare i parcheggiatori da domani. Pensa se beccavamo la pubblicità, se beccavamo, forse mi piace questa posizione quando vengo a parlare con lui, veramente, mi mazzizzo. Va bene, va bene, è stata una bella cosa. Penso a quelli di l'AI1 che ho visto un po' di... lo possiamo fare ogni tanto, perché non è una cosa, eh? Anche qual è, senti qua, senti qua. Non credo. Ma qui c'è un problema di antitrust, quelle robe lì, ma si può fare un problema di antitrust, quelle cose che si dicono? Ah, se c'è la pubblicità forse sì. Avvertitemi quando c'è la pubblicità, che facciamo meglio il cambio veloce. Io chiedo scusa, ho visto, ho visto, perché ci sono un sacco di personaggi, amici, ciao. Anche la puntata scorsa ho parlato di voi, c'è una fila di pischelle qua, proprio di quelle lì. che ci...